Ok, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video di tecniche di programmazione. Nella lezione di oggi risolveremo di nuovo insieme un tema d'esame. Tema d'esame in cui però il secondo punto è relativo alle simulazioni ad eventi, ok? Non è più ricorsivo ma iniziamo l'ultima parte, diciamo così, di questo corso che sono le simulazioni che avete iniziato a vedere col professor Corno nelle scorse lezioni. Prova d'esame di alcuni anni fa, del 2017, abbastanza facile devo dire e personalmente credo che le simulazioni siano seppur un po' più magari corpose, un po' più lunghe da scrivere, più facili della ricorsione però bisogna capire bene che metodologie seguire bisogna fare attenzione a non perdersi nessun elemento del testo, nessun elemento delle richieste. Risolveremo questo tema d'esame, in particolare risolveremo il punto 2 simulativo. Su GitHub trovate il progetto base che contiene già la soluzione del punto 1. La contiene già perché vogliamo ovviamente focalizzarci sul punto 2 in questo video, ma anche perché il primo punto è praticamente uguale, se non molto simile, a quello che abbiamo fatto nell'ultimo laboratorio, il laboratorio numero 9. Quindi questa prova d'esame aveva lo stesso database, dei database country borders, e appunto il primo punto era molto simile a quello che abbiamo già visto. Il database lo conoscete già, abbiamo una tabella country che modella i paesi all'interno del DB e poi abbiamo la tabella contiguity che modella, diciamo così, i confini nell'arco del tempo di questi paesi. Esplicitamente, così come nel laboratorio, il testo ci dice che ci interessano solo i confini via terra, quindi con type uguale a 1, e il primo punto, andiamo a leggerlo brevemente, chiedeva di permettere all'utente di specificare un anno di interesse, x, e dato questo numero x alla pressione del bottone calcola confini, occorreva creare un grafo che rappresentasse la situazione dei confini mondiali via terra fino all'anno x specificato. Quindi le relazioni di confine via terra, ovviamente, da considerare, sono tutte quelle in cui il campo IR sia minore o uguale di quello specificato, del valore specificato. I vertici del grafo, invece, devono rappresentare le nazioni per le quali esiste nel DB un confine via terra nell'arco di tempo risultante, mentre gli archi, in questo caso non orientati e non pesati, molto facile, devono rappresentare il fatto che due nazioni hanno confinato via terra con type uguale a 1 in quel periodo. Ok? Quindi qui è ancora più specifico del laboratorio, ci dice veramente cosa dobbiamo fare. Bisognava poi stampare l'elenco degli stati, abbreviazione e nome, indicando per ciascuno il numero di stati confinanti secondo il grafo creato. L'elenco deve essere stampato in ordine decrescente del numero di stati confinanti. Quindi, al netto di alcune piccole differenze, siamo in linea con il laboratorio appena fatto e vedremo che la query per creare il grafo è esattamente la stessa. Noi invece ci concentriamo sul punto 2, punto che richiede una simulazione. Ma prima di leggerne le specifiche andiamo a vedere appunto cosa contiene il progetto base. Andiamo, partiamo dal modello. Eccoci qua. Come vedete abbiamo già il metodo crea grafo. in cui in questo caso abbiamo diviso l'aggiunta dei vertici dall'aggiunta degli archi. Si poteva fare anche con una singola query, aggiungendo volta per volta i vertici in questo caso. In ogni caso, andiamo a vedere come aggiungiamo i vertici grazie a questa query che facciamo fare al DAO col metodo getCountriesFromHere. Andiamo a vedere com'è questa query. Eccola qui. Questa query prende dalla tabella country tutti i paesi il cui codice si trova in questa query annidata. Ho scelto una metodologia un po' diversa dal solito, ho usato query annidate, ma il concetto è esattamente lo stesso. Andiamo a prendere solo i vertici per cui esiste un confine nell'arco di tempo specificato e per cui questo confine sia di tipo terra con type uguale a 1. Aggiungiamo tutti i vertici e al solito utilizziamo l'approccio più efficiente, ci facciamo dare direttamente le adiacenze dal DAO e per ogni adiacenza aggiungiamo un arco. In questo caso un arco senza peso, come chiedeva il testo. Andiamo a vedere la query, molto semplice. Prendiamo tutte le adiacenze dalla tabella contiguity dove l'anno è minore di quello specificato, il confine è un confine via terra e per non prendere due volte le stesse coppie imponiamo che l'ID di uno stato sia minore dell'altro. In questo caso prenderemo solo le coppie 1, 2, la coppia 1, 2 e non la 2, 1 perché tanto l'informazione per noi è la stessa. Costruito il grafo, sempre nel modello abbiamo questo metodo che ci permette di risolvere l'ultima parte del primo punto che chiedeva di stampare l'elenco degli stati indicando per ciascuno il numero di stati confinanti secondo il grafo creato. E allora questo metodo si appoggia su una classe temporanea diciamo così che abbiamo creato country e number, semplicemente modella un attributo di tipo country e un attributo numerico number che sta a significare il numero di vicini di questo determinato country. e quindi questo metodo ritorna una lista che poi andiamo anche ad ordinare di coppie country numero di vicini. La ritornerà al controllore che la potrà stampare. Ovviamente questa lista la ordiniamo e quindi la classe di appoggio che abbiamo creato country e number implementa il comparable. Andiamo ad ordinare in modo decrescente per numero di vicini visto che l'attributo number numero di vicini è un int, tipo base possiamo usare questo trucchetto di sottrarre un numero con l'altro. e poi per avere l'ordine decrescente ci mettiamo ancora un meno davanti, ok? Possiamo usare il meno perché non stiamo parlando di oggetti ma di un tipo primitivo, ok? Avessimo ordinato, non lo so, alfabeticamente per paese questo trucchetto del meno non potevamo più usarlo. Ok, proviamo un attimo questo punto 1, vediamo solo se la db connect ha già la mia password, sì, voi potete cambiarla secondo le vostre configurazioni, lanciamo il mail. Ecco qui possiamo inserire un anno e calcolare i confini e quindi qui abbiamo la stampa degli stati nell'anno 2005 in cui esiste un confine dal 2005 indietro e per ogni stato del grafo abbiamo anche il numero di vicini in questo grafo stampati in ordine decrescente, ok? Perfetto, questo era il punto 1 ma noi come abbiamo detto oggi ci focalizziamo sul punto 2, la simulazione. Andiamo a vedere tutte le specifiche, ci vuole un po' di pazienza, le specifiche del punto 2 di simulazione sono spesso abbastanza lunghe, abbastanza intricate, bisogna stare attenti a non perdersi nessuna informazione. Allora questo esercizio si chiama gestione migrazioni perché dal grafo creato vogliamo simulare un flusso migratorio, quindi vogliamo simulare la diffusione di una serie di mille migranti che vengono inseriti, diciamo così, che arrivano in uno stato iniziale selezionato dall'utente tra quelli presenti nel grafo. Questi migranti si spostano tra gli stati secondo le regole enunciate in questi punti. Allora al tempo iniziale t uguale a 1 tutti i mille migranti saranno nello stato selezionato dall'utente. E fin qui ci siamo. Ogni volta che dei migranti entrano in uno stato, sia all'inizio quindi sia t uguale a 1 che ai tempi successivi, immediatamente il 50% di questi migranti diventano stanziali, quindi si stabiliscono in quel paese, non si muovono più. Il rimanente 50%, approssimato per difetto, si muove e si sposta negli stati confinanti. In particolare ad ogni nuovo istante di tempo t più 1, la popolazione non stanziale, quindi che si muove di ciascun stato, si sposta e si divide in parti uguali tra tutti gli stati confinanti. Si divide in parti uguali, approssimate per difetto se è il caso. Quindi ad esempio il testo ci dice che se in uno stato ci sono 40 persone non stanziali, quindi in quello stato ne erano arrivate 80, 50%, 40 si muovono. Supponiamo che questo stato abbia 3 vicini, 3 stati confinanti, in ciascun stato confinante si sposteranno 13 persone, 40 diviso 3, approssimato per difetto. Si assume che la quarantesima persona, il resto della divisione, diventa stanziale, non si muove. Come caso particolare, e questo è un po' il caso che ci identifica la terminazione della nostra simulazione, se il numero di persone non stanziali, quindi quelle che si vorrebbe muovere, presenti in uno stato è inferiore al numero di stati confinanti, allora nessuno si sposterà e tutti diventeranno stanziali. Quindi se non ci sono abbastanza persone da dividersi in parti uguali in tutti gli stati confinanti, niente, non si sposta nessuno e tutti diventano stanziali. Nella scelta degli spostamenti, tutti gli stati confinanti avranno lo stesso numero di persone, quindi non abbiamo da simulare nessuna probabilità quanti si muoveranno di qui, quanti di là, no, qui si muovono tutti in modo uguale, e quindi è possibile che alcune persone però ritornino indietro al tempo t più 2, nello stato in cui erano al tempo t, ok? Quindi io mi muovo, vado nello stato vicino a t più 1 e a t più 2 devo muovermi di nuovo e per puro caso ritorno nello stato di partenza. Questo è possibile e il testo ci dice che un fenomeno normale non deve essere trattato in nessun modo particolare. Quindi, riassumendo, ad ogni passo della simulazione il numero di persone che si muovono si riduce almeno del 50%. Pertanto, ad un certo punto ovviamente la simulazione si esaurirà in quanto tutti saranno divenuti stanziali. Al termine della simulazione, quando avviene questo, occorre stampare il numero di passi t simulati e per ogni stato in cui vi sia almeno una persona stanziale stampare il nome dello stato ed il numero di persone presenti. L'elenco deve essere in ordine decrescente di numero di persone, ok? Quindi queste sono le regole che abbiamo con cui dobbiamo risolvere il nostro esercizio. E allora andiamo su Eclipse, iniziamo a impostare il nostro punto 2. Chiudo un po' di cose. E diciamo così, per dividere bene il codice direi che una buona idea è crearsi nel PackageModel una nuova classe, il nostro simulatore, che conterrà tutta la logica della nostra simulazione. Quindi mi vado a creare una nuova classe che chiamo Simulatore. Perfetto. Ovviamente questa è una scelta di, diciamo così, design. Tutto questo codice potrebbe stare anche nel model, ma secondo me è buona norma dividere i concetti. E iniziamo a chiederci che cosa ci serve per sviluppare la nostra simulazione. Dobbiamo sempre chiederci qual è il nostro modello, cioè lo stato del sistema di cui dobbiamo tenere traccia ad ogni passo. Poi possiamo chiederci quali sono i tipi di evento, ok? Tipi di evento che andranno inseriti nella coda prioritaria. Abbiamo ovviamente i parametri della simulazione e dualmente abbiamo anche l'output, quindi i valori che questo simulatore dovrà fornire ad esempio al modello. Queste sono direi le quattro cose su cui dobbiamo ragionare prima di partire a scrivere il nostro codice. Partiamo dal punto più facile, i valori di output. Allora il testo ce lo chiede esplicitamente, dobbiamo restituire il numero di passi t simulati alla fine e per ogni stato in cui c'è almeno una persona stanziale stampare il nome dello stato con il numero di persone presenti. Allora, ovviamente il numero di passi simulati sarà un intero, chiamiamolo T. E poi per modellare gli stati con le persone che si sono fermate all'interno di questi stati direi che la struttura dati più comoda per noi è ovviamente una mappa. Una mappa in cui la chiave sono i paesi e i valori sono il numero di migranti divenuti stanziali, chiamiamo questa mappa ad esempio stanziali. Importiamo la mappa e ci siamo. Altro punto facile su cui ragionare sono i parametri della simulazione. Se andiamo a vedere nel testo, il testo ci dice il numero di migranti iniziali, ce lo dà già lui ed è mille, ok? Quindi è già predefinito. Private int n migranti uguale mille. Lo definiamo già perché è detto esplicitamente dal testo. Altro parametro iniziale della simulazione direi che è lo stato di partenza, lo stato da dove partono i mille. Migranti, ovviamente è un country. Partenza. Ora, ragioniamo un attimo sul modello che dobbiamo avere nel nostro simulatore, quindi lo stato del sistema di cui abbiamo bisogno per simulare. Beh, qui l'unica cosa che ci serve direi che è il grafo, ok? Per recuperare i vicini, dove si possono spostare i nostri migranti. Quindi il modello ci passerà un riferimento al grafo che lui ha creato. Private graph. È un grafo di country. Default edge. Vi ricordo che il grafo non è pesato, quindi abbiamo un default edge senza che sia weighted. Grafo. Importiamo un po' di cose. Eccoci qua. L'ultima cosa su cui ragioniamo sono i tipi di evento. Allora, devo dire che questa simulazione è abbastanza facile. In particolare possiamo modellarla tramite un unico evento, perché se noi andiamo a brevemente rianalizzare le specifiche, ci accorgiamo che qui l'unico evento che ci interessa è l'evento in cui i migranti arrivano in uno stato, ok? I migranti arrivano in uno stato, immediatamente, appena arrivano, si dividono in parti uguali negli stati vicini. Almeno la metà di essi si divide in parti uguali. Quindi direi che ce la facciamo a modellare la nostra simulazione con un unico tipo di evento. Migranti che arrivano in uno stato. E da lì poi si divideranno e si, diciamo così, scateneranno altri eventi di migranti che arrivano in altri stati. Però non abbiamo altre tipologie di eventi che influiscano sulla nostra simulazione, perché i migranti si muovono sempre, diciamo così, allo stesso modo. Va bene, quindi avremo la nostra solita coda private priority queue di evento, una classe che andremo adesso a creare, chiamiamo questa variabile queue. Importiamoci la priority queue e andiamo a definire nel nostro package model la classe evento. Ovviamente se avessimo più tipi di evento nella nostra simulazione, qui all'interno avremo una variabile, una enum, ad esempio, che specifica il tipo di evento considerato. Qui di nuovo abbiamo un singolo evento, molto meglio, possiamo definire direttamente gli attributi di questa classe, che saranno ovviamente il tempo t dell'evento. Poi avremo lo stato in cui i migranti arrivano, chiamiamolo stato, quindi lo stato in cui arrivano i migranti al tempo t. Importiamo country, non ho già importato, e poi abbiamo anche il numero di migranti che arrivano, private int n. Il numero di migranti che arrivano in stato al tempo t e che a loro volta si sposteranno. Diciamo così, la metà di essi si sposterà, così è più corretto. Ok, facciamoci generare da Eclipse il costruttore sicuramente. Ma anche i getter e setter. E cosa fondamentale per le simulazioni? Ovviamente questi eventi devono essere comparabili, perché noi andiamo a inserirli in una priority queue e poi da questa priority queue andremo ad estrarne uno per volta secondo una determinata logica, secondo un determinato ordine, che tipicamente è l'ordine del tempo. Tempo che noi modelliamo in modo semplicistico, diciamo così, con una variabile int t che parte da 0, 1 e va avanti come se simulasse i secondi, i minuti, eccetera. Potremmo anche simulare il tempo con delle date, nessuno lo vieterebbe. Ma manteniamo le cose semplici. Fondamentale quindi che questa classe evento implements comparable, altrimenti tutta la nostra simulazione non può funzionare. Evento. Se implementiamo comparable, dobbiamo fare l'override del metodo compareTo. Di nuovo, visto che l'attributo su cui facciamo questo confronto è un tipo primitivo int, possiamo semplicemente fare la sottrazione tra dis.t e o.t. Questa sottrazione ritornerà un numero maggiore, minore o uguale a 0 e grazie a questa return il compareTo funzionerà. Ma in questo caso funziona solo perché il tipo di dato è un tipo primitivo. fosse stato un oggetto che abbiamo costruito noi, una nostra classe, dovremmo usare il compareTo ridefinendo l'hashcode equals nella nostra classe. Ma non è questo il caso, quindi è molto più semplice usare questo metodo. Perfetto, salviamo e torniamo di lì. E direi che abbiamo tutte le cose, le cose pronte. Quindi il nostro simulatore avrà di solito un metodo di inizializzazione, diciamo così, quindi public void init. Il simulatore verrà inizializzato nel nostro caso probabilmente dal modello e il modello ci dirà sicuramente qual è lo stato di partenza. Ma anche ci darà un riferimento al grafo. Perché noi non lo conosciamo, se l'è creato il modello e ora ce lo passa, diciamo così. country default edge grafo. Diciamo così, il modello ci passa i parametri della simulazione e il modello su cui possiamo simulare. Prendiamoci questi parametri, dis.partenza uguale partenza, dis.grafo uguale grafo. Ricevuti i parametri ci sarà sempre un po' di codice per impostare la simulazione, quindi impostazione dello stato iniziale. Che cosa dobbiamo fare? Beh, un po' come nella ricorsione. Impostiamo i valori iniziali delle nostre variabili. Sicuramente faremo partire il tempo t da 1. Poi dobbiamo anche impostare le nostre strutture dati che utilizzeremo, la struttura dati che utilizzeremo per tenere traccia dell'output e quindi la mappa stanziali. Quindi andiamo sicuramente a crearla, new hash map. E poi come la inizializziamo? Beh, direi che un possibile modo è quella di andare a prenderci tutti gli stati che sono modellati nel grafo e di associare preventivamente un numero stanziali pari a 0. Se poi durante la simulazione questo numero aumenterà, beh, ne terremo traccia andandolo a modificare. Quindi dal grafo mi recupero tutti i paesi, i country modellati. Dis.grafo.vertexset E vado a fare una put nella mappa stanziali.put Di c,0 Perfetto Dobbiamo ancora anche creare la coda, da non dimenticarcelo, altrimenti ci sarà sicuramente una null pointer exception. Quindi creo la coda Dis.q Uguale new priority q Di evento Creata la coda Vado a inserire il primo evento Ok? Stiamo inizializzando la simulazione, il primo evento già lo conosciamo perché abbiamo il numero di migranti iniziali ma abbiamo anche lo stato di partenza. Quindi sappiamo che a t uguale a 1 arriveranno mille migranti in quello stato. Inserisco il primo evento Dis.q Punto add Ovviamente l'evento dobbiamo crearlo New evento A cui passiamo t che all'inizio vale 1 N migranti Il numero di migranti del primo evento 1000 E il nodo di partenza Forse ho invertito le cose Abbiamo t, stato e n Quindi partenza sta tra t e n migranti Perfetto Questo è il primo metodo Ma oltre a questo ci sarà il metodo per poi eseguire la simulazione Quindi public void run Di solito questi due metodi ci sono sempre E come si implementa questo metodo con un pattern che è sempre praticamente lo stesso Detto in due parole finché c'è un evento nella coda lo estraggo e lo eseguo Fine Durante la simulazione la coda potrà variare perché nuovi eventi potranno essere inseriti E io tutte le volte ne estraggo uno e finché ho finito, finché la coda non è vuota Ne eseguo uno per volta e vado avanti tenendomi traccia volta per volta dell'output Quindi finché la coda non si vuota estraggo un evento per volta e lo eseguo Questo è il pattern Quindi avremo evento e Finché E Uguale Dis.q.pol Prendo l'evento in testa della coda Lo salvo in E E fin quando E è diverso da null Avrò qualcosa da fare E quindi all'interno del while Eseguirò questo Evento Quindi qua dentro Ho estratto un evento L'ho messo in E Adesso eseguo L'evento E Come eseguiamo l'evento? Beh questo ovviamente dipende dall'esercizio Di nuovo in esercizi in simulazioni più complicate dove ci sono più tipi di evento Tipicamente qui avremmo un bello switch case Ad esempio E.get tipo In cui abbiamo i vari case Ovviamente qui non abbiamo il tipo all'interno Non abbiamo modellato il tipo all'interno dell'evento perché ce n'è solo uno di tipo sostanzialmente Però potrebbe esserci spesso questo switch case Non in questo caso In questo caso possiamo eseguire direttamente il nostro evento Cosa dobbiamo fare per far, per eseguirlo? Allora sappiamo che l'evento E ci dice N migranti sono arrivati in uno stato Cosa devo fare? Decidere chi si sposta e dove Quindi iniziamo innanzitutto a prenderci il numero di persone che sono arrivate Le recuperiamo da E.get n Poi possiamo anche recuperarci lo stato Country stato uguale E.get stato Queste sono le due informazioni che ci servono Adesso La metà di questi si sposta in parti uguali Tra tutti i vicini di stato Quindi Cerco i vicini di stato ovviamente Questi vicini sono nel nostro modello Nel nostro grafo List di country Vicini Uguale This No Posso usare la nostra amica classe graphs Punto Neighbor list of Dove prendo questi vicini? Dal grafo Dis.grafo Vicini di chi? Dello stato Adesso ho questi vicini So quanti sono Vicini.size Posso decidere Quanti migranti si spostano in questi stati vicini Allora abbiamo detto Chiamiamo questa variabile migranti Abbiamo detto Se ne sposta la metà Quindi N Persone Fratto Due Di questa metà I migranti si spostano in parti uguali tra i vicini Beh quindi posso fare diviso vicini.size Quindi La metà dei migranti che sono arrivati all'evento e nello stato Si sposta in parti uguali negli stati vicini Il testo dice di arrotondare per difetto Noi siamo abbastanza fortunati perché essendo queste variabili n persone Vicini.size degli interi Int Questo arrotondamento per difetto è fatto in automatico Ok quindi non dobbiamo preoccuparci di altre cose Viene arrotondato automaticamente per difetto Quindi alla fine di questa operazione Int migranti contiene il numero di persone che si sposterà in ogni stato vicino Beh Se però Il numero di persone non stanziali Quindi definito da n persone fratto due Non era sufficiente Dato il numero di vicini Int migranti Conterrà ovviamente zero Siamo d'accordo? Supponiamo un caso Abbastanza semplice Abbiamo Quattro migranti N persone uguali a quattro Che arrivano al tempo e Al tempo t scusate Nell'evento e In un determinato stato E supponiamo che i vicini Di questo stato Siano Quattro Allora Di queste quattro persone Se ne sposteranno Due Due diviso quattro Ovviamente fa Zero Con resto di Con resto E quindi fa zero E non ci saranno Sufficienti migranti Per spostarsi Negli stati vicini Quindi diventano tutti stanziali Ma come modelliamo questa cosa? Beh Semplicemente con una if Se migranti è maggiore di zero Vorrà dire che Alcuni si sposteranno Se questo Non è vero Quindi se migranti Risulta essere uguale a zero Andremo poi a salvarci L'informazione Delle persone Che sono rimaste E che sono divenute Stanziali Facciamo prima il caso In cui ci siano persone Da spostare Le persone Si possono Muovere Come si muovono? In parti uguali Tra i vari vicini Quindi for Country Confinante In confinanti Vicini Abbiamo chiamato vicini Cosa faccio? Per ogni vicino Ecco qui che Aggiungo un evento L'evento in cui I migranti Arriveranno Nel determinato Stato Confinante Quindi Q Punto Add New Evento Dobbiamo Definire il tempo Che è dato da E Punto Get T Più Uno Quindi L'evento in cui siamo adesso Più uno Il tempo dell'evento in cui siamo adesso Più uno Il numero Lo stato in cui si spostano Confinante E il numero di persone che si spostano L'abbiamo calcolato qui Migranti Indipendentemente dal fatto che le persone Alcune persone siano riuscite a spostarsi oppure no Teniamo traccia delle persone che sono divenute stanziali Se poi questa if non è verificata e non si entra qua dentro Beh vorrà dire che tutte le persone che erano arrivate nello stato Sono divenute stanziali Altrimenti solo il 50% Quindi Ind Stanziali Quante sono le persone che si sono fermate nel nostro stato? Beh sicuramente il numero delle persone che sono arrivate meno quelle che sono partite N persone meno N persone meno chi sono le persone che sono partite Migranti per vicini punto size Se migranti è 0 Ovviamente questo fattore è 0 E tutte le n persone che erano arrivate diventano stanziali Salviamoci questa informazione Nella nostra mappa This punto stanziali Punto put Nel nostro stato Si sono fermate Stanziali persone Attenzione qui Era detto esplicitamente nel testo Non dobbiamo dimenticarcelo Che Le persone possono anche tornare indietro i migranti I migranti possono Per caso Tornare nel punto di partenza Perché io al tempo T sono nello stato X Al tempo T più 1 Mi muovo nello stato Y Al tempo T più 2 Mi muovo in un vicino Dello stato Y Che però può risultare di nuovo essere X E questo è perfettamente possibile È un caso particolare che bisogna prevedere Come lo prevediamo? Beh Al posto di sovrascrivere Il valore Nella mappa Riferito a questo determinato stato Noi lo andiamo tutte le volte a Modificare Ok? In questo modo Se qualcuno torna indietro Noi prendiamo il valore Distanziali Che c'era Riferito a questo determinato stato E lo andiamo ad incrementare Non a sovrascrivere Con le persone che sono tornate indietro Quindi This Punto Stanziali Punto Get Di stato Più Stanziali Ecco qua Direi che la nostra simulazione è Bella che è finita Vedete in questo caso alla fine non ci sono nemmeno troppe linee di codice Tutto si risolve abbastanza velocemente Bisogna fare attenzione solo a non perdersi i dettagli Tipo questo che abbiamo visto appena adesso Allora vediamo se riusciamo a restituire L'output che il nostro modello vuole Il nostro modello vuole gli stanziali e questo lo possiamo fare ritornando semplicemente la mappa Quindi prevediamo un metodo pubblico che ci ritorni la nostra mappa di country Integer Get Stanziali Return This Punto Stanziali Poi il nostro modello sicuramente vorrà anche il numero di passi simulati Allora qui non abbiamo ancora questa non abbiamo tenuto traccia di questa informazione Il numero di passi simulati sarà semplicemente l'ultimo t che abbiamo visto nella nostra coda Quindi come possiamo farlo Visto che qui usiamo il tempo precedente Beh potremmo salvarci tutte le volte che ti cambia il nuovo t This.t Ups Uguale e punto get t Così t verrà sovrascritto l'ultima volta con l'ultimo t che vediamo nella simulazione E quindi prevediamo un metodo public integer get get t Return This.t Et voilà Il nostro simulatore direi che a meno di errori è praticamente pronto Andiamo allora a collegarlo diciamo così al nostro modello Nel nostro modello Possiamo esporre un metodo Void Chiamiamolo simula Questo metodo si occuperà di creare un simulatore e eseguire la simulazione Quindi Che cosa che parametri dovrà ricevere questo metodo? Direi il country di partenza Lo riceverà dal controllore Country Poi Possiamo creare Definire un attributo del modello Che Si riferisca a un'istanza di un simulatore Quindi private Simulatore Chiamiamolo sim Questo sim va naturalmente creato Lo possiamo fare nel costruttore del modello Dis.sim Uguale new simulatore Ok E Quando andiamo ad eseguire il metodo simula Chiamiamo i metodi del nostro simulatore Che abbiamo detto essere il metodo di inizializzazione Quindi sim.init A cui dobbiamo passare la partenza E il nostro dis.graph Il nostro grafo Grafo che ovviamente deve essere creato in precedenza Inizializzato il simulatore Lo lanciamo Sim.run Sim.run Lui farà tutto quello che deve fare Metterà gli eventi nella coda Gli estrarrà Gli eseguirà uno per volta E finito Questo ci esporrà Diciamo così i risultati Risultati che noi andiamo a prendere da qui E gli esponiamo a nostra volta verso ad esempio il controllore Quindi possiamo avere due metodi Uno che ci ritorni il tempo t L'ultimo tempo t simulato Chiamiamolo di nuovo Integer get t Andrà a chiedere al simulatore Return this.sim.get t Ovviamente qui si potrebbero Qui manca le due parentesi Si potrebbero effettuare dei controlli in più Ad esempio qui possiamo dire che simuliamo solo se il grafo è stato creato Quindi if this.graph diverso da null E anche per il Il get t Possiamo ritornarlo solo se La simulazione ha finito Se c'è stata una simulazione Quindi Potremmo dire Potremmo impostare questo t Preventivamente a Meno 1 E quindi Se riceviamo un meno 1 Noi lo ritorniamo per esempio al controllore Che potrà fare le sue valutazioni Quindi se riceverà un meno 1 Potrà stampare un messaggio di errore Ad esempio Dicendo Occorre prima lanciare la simulazione Ok? Tutti i controlli di errore Ce li possiamo studiare Fare come meglio crediamo Direi che Qui l'importante Il concetto è capire bene la simulazione Dopodiché Dopodiché Oltre al t Avremo un metodo per Recuperarci la mappa di stanziali Adesso Il testo Ci chiede Un elenco ordinato Quindi L'elenco deve essere Stampato in ordine decrescente Di numero di persone Se noi abbiamo una mappa Il concetto di ordinamento In particolare nella AshMap No, non ce l'abbiamo Quindi è inutile ritornare direttamente la mappa Perché il controllore poi dovrebbe fare del lavoro Per ordinarsela Questo lavoro è bene farlo qui Perché è ancora un lavoro di Diciamo così Logica Dell'applicazione Visto che vogliamo Restituire Un elenco ordinato Di Country Con persone Stanziali all'interno di questi country Beh Supponiamo di ritornare una lista Ordinata ovviamente Lista di che cosa? Modelliamo dei country Con A cui viene associato un numero Beh noi abbiamo già una classe di appoggio Che abbiamo usato per creare il grafo Country and number Direi che possiamo riutilizzare questa Quindi in questo caso Number L'attributo number Conterrà Il numero di persone stanziali Altrimenti andiamo a crearci un'altra classe Se fa lo stesso io direi di usare questa per semplicità Ok Quindi Chiamiamo questo metodo Get stanziali E a partire dalla mappa che ci darà il simulatore Andremo a creare una lista ordinata di country and number Prendiamoci questa mappa Quindi map Gli country Integra Stanziali Uguale Dis.sim.get Stanziali Anche qui volendo si potrebbero fare dei controlli sugli errori Poi ci creiamo la nostra lista che ritorneremo Uff Number Chiamiamola res Uguale new array list Ok Perfetto E Per ogni Coppia Chiave Valore Nella mappa Andiamo a crearci un nuovo Una nuova istanza di country and number La andiamo a inserire nella lista res E poi alla fine prima di ritornarla Andremo ad ordinarla Quindi for Country C In Stanziali Punto Key set Country And Number C N Uguale New Country And Number Di che cosa? Dello stato C E di Stanziali Punto Get Di C Andiamo a mettere questa istanza di country and number Nella nostra lista E prima di Di ritornarla La ordiniamo Quindi Collections Punto Sort Ops Res Return Res Attenzione Qui siamo abbastanza fortunati Perché Allora ovviamente ordiniamo una lista di country and number Per farlo Affinché funzioni Ovviamente Occorre che la classe country and number Implementi Comparable Ma non solo che lo implementi Che lo implementi secondo la logica che ci serve Qui siamo fortunati perché la classe country and number Che avevamo creato per Per il nostro grafo Per creare il nostro grafo Implementa già comparable E questo compare to Il compare to implementato è proprio quello che ci serve anche Per stampare gli istanziali Quindi ordine decrescente per numero Se questo non fosse vero L'alternativa di creare un'altra classe C'è sempre Altrimenti avremmo dovuto definire un nuovo comparatore Direttamente Nella sort Questa poteva essere l'altra L'altra opzione Però in questo caso siamo fortunati Abbiamo già tutto quello che ci serve Perché non usarlo Ok L'importante è capire che cosa stiamo facendo Bene Direi che ci siamo quasi Ci resta solo più da collegare Tutte queste cose al controllore Quindi andiamo nel controller E nel metodo do simula Cosa facciamo Dobbiamo prenderci sicuramente lo stato di partenza Stato di partenza che va selezionato dalla tendina La tendina però purtroppo è ancora vuota Se noi andiamo a lanciare il main Se non mi sbaglio Lancio il main Creo il mio grafo E la tendina è ancora vuota Quindi dobbiamo prima cosa da fare Popolare questa tendina La popoliamo ovviamente Dopo aver creato il grafo Quindi Vado nel controller Dico innanzitutto che il mio combo box Conterrà dei country Bene E dopo aver creato il grafo Quindi qui se tutto è andato È andato bene Possiamo dire Box nazione Punto Get items Punto Add all Dove prendiamo questi Questi elementi della combo box Beh sicuramente dal modello Che ci dovrà restituire L'elenco dei vertici Non abbiamo ancora questo metodo Beh lo andiamo a creare Get countries Ok Non ce l'avevamo ancora Lo faccio generare dai clips Magari mettiamolo all'inizio Dopo il crea grafo Ovviamente non ritorna un solo country Ma ritornerà direi una lista di country Dove prendo questa lista Beh dal grafo Un'alternativa sarebbe dire Return This Punto Graph Punto Vertex set E magari dire qui Non una lista Ma un set Per esempio Qual è il problema? È che noi Tipicamente Gli elementi della tendina Li vogliamo Anche qui Ordinati Quindi Concetto che non abbiamo Nel vertex set Quindi Lasciamo lista Creiamo una lista d'appoggio A cui andiamo ad aggiungere Tutti i vertici Del nostro vertex set Quindi Countries Punto Add all Questa roba qui E prima di ritornarla Andiamo ad ordinarla Ad esempio Per nome Andiamo a vedere La classe country Package model Non ha ancora un comparable Quindi se vogliamo ordinare Liste di country Dobbiamo implementare Un comparable Ok E per cosa lo ordiniamo? Lo potremmo ordinare Secondo quello che andremo a stampare Nella tendina Direi che andremo a stampare L'abbreviazione Probabilmente E quindi Possiamo dire This Punto Get State Hub Punto Compare To O Punto Get State Hub Perfetto A questo punto Collections Punto Sort Countries Return Countries Ottimo Torniamo al controllore Abbiamo riempito la tendina E quindi In do simula Possiamo recuperarci Il nodo di partenza Box Nazione Punto Get Value Solito controllo Dell'errore If Partenza Uguale Uguale Null Stampiamo un messaggio D'errore Txt Txt Result Punto Clear Txt Result Punto Set Text Seleziona Stato Return Questa Clear Possiamo anche Metterla All'inizio Se L'utente Seleziona Correttamente Uno stato Allora Andiamo a Simulare Dis Punto Model Punto Simula Partenza E poi andiamo a recuperare L'output E a stamparlo Quindi stampiamo Diciamo così un titolo Txt Result Punto Appentext Simulazione A partire Da Due punti Partenza Slash N Slash N Possiamo stampare Il numero Di passi Numero Passi Due punti Ups Più Dis Punto Model Punto Get T Più Slash N Slash N E poi Possiamo stampare La nostra Tra lista Di stanziali Quindi For Country And Number C In This Punto Model Punto Get Stanziali La stampiamo Solo se il numero Di stanziali È maggiore Di zero Come richiede Il testo Quindi If C Punto Get Get Number Maggiore di zero TXT Result Punto Append Text Stampiamo Il paese C C Punto Get Country Più Uguale Più C Punto Get Number Più Slash N Dove Get Number È il numero Distanziali Maggiore di zero Per questo Determinato Country Direi che ci siamo Proviamolo E poi Possiamo Possiamo Chiudere 2005 Creiamo Il grafo Selezioniamo Uno stato Di partenza Il belgio E simuliamo Allora Sembra funzionare In quattro passi La simulazione Termina E Questi Questo è L'elenco Di persone Divenute Stanziali Nei vari Stati Ovviamente Nel belgio Lo stato Di partenza C'è il numero Maggiore Di persone Stanziali Perché Appunto Il 50% Già all'inizio Diventa subito Stanziale Quindi 500 Rimangono In belgio E poi Vediamo Che appunto Qualcuno Torna indietro Quei 20 Tra lì Sono persone Che si sono Mosse dal belgio Ma durante la simulazione Sono tornate indietro Nello stesso stato Direi che Sembra funzionare Ok Quindi concludiamo qui Questo video E ci vediamo Alla prossima lezione Buona serata a tutti Alla prossima lezione Alla prossima lezione Alla prossima lezione